Se stai considerando di investire in Medical Property Trust o semplicemente sei curioso di sapere cosa sta succedendo, rimani sintonizzato perché tutte le informazioni di cui hai bisogno saranno argomento di questo video. Benvenuti o bentornati, io sono Pasquale. Oggi affrontiamo un argomento che è un po' sulla bocca di tutti o della mente di tutti gli investitori. Medical Property Trust o M.P.W. Se stai seguendo il mercato azionario avrai notato che il titolo di Medical Property Trust è stato su una sorta di altaleno ultimamente, con alcune significative cadute, molto significative. Anzi diciamo che è solo caduto a piombo. In questo video esploreremo perché le azioni di questo RIT sanitario stanno scendendo analizzando i fattori in gioco. Si tratta solo di un rallentamento temporaneo o potrebbe essere anche un segnale d'allarme di problemi più grandi e più gravi in vista? Ma non preoccuparti, non ti lascerò con il dubbio. Anzi, alla fine di questo video capiremo se M.P.W. è ancora un acquisto valido, offrendo un'opportunità per gli investitori, sia quelli che cercano valore nell'apprezzamento delle azioni, sia quelli che cercano dividendi, o se è diventato una potenziale value o dividend trap da evitare come la peste. Ovviamente, sempre secondo me, secondo le mie valutazioni. Partiamo dal principio. Medical Property Trust abrivate con M.P.W. è un RIT. è un importante protagonista nel settore immobiliare sanitario statunitense. Questa azienda è specializzata nell'acquisizione e nell'affitto di strutture ospedaliere, diventando un partner vitale per molti fornitori di servizi sanitari negli Stati Uniti d'America e anche oltre. Quello che va a distinguere M.P.W. è il suo approccio unico all'infrastruttura sanitaria. Cosa fanno? Acquisiscono e possiedono le strutture essenziali mediche. Tutte belle parole, ma allora perché sta andando tutto schifio? Dopo aver riportato risultati molto deludenti nel secondo trimestre, inclusi i mancati obiettivi di guadagno e una perdita netta dovuta alla terminazione anticipata di contratti di affitto, Medical Property Trust ha subito un declassamento di tre livelli da parte di un analista di rilievo. Questa combinazione di fattori ha contribuito a una diminuzione del valore delle sue azioni. Poi le provisioni future dell'azienda per i funds from operations, abbreviati con la sigla FFO, sono state anche aggiornate. Nonostante un lievissimo aumento dell'FFO rispetto al secondo trimestre dell'anno precedente, i risultati complessivi hanno mancato le previsioni, suscitando a questo punto preoccupazione fra gli investitori sulle future performance e le prospettive che ha Medical Property Trust. Ma la cosa che maggiormente pesa è una difficilissima situazione di liquidità nei prossimi trimestri e preoccupazione riguardo ai suoi bisogni di rifinanziamento nei prossimi tre anni. Molti erano stati pessimisti alla sostenibilità del dividendo e di varie questioni fondamentali che l'azienda dovrebbe affrontare, mentre io purtroppo ero comunque positivo sull'azienda. Ma da inizio anno ha perso quasi il 57% del valore in borsa e la caduta sembra non fermarsi. Evidentemente avevo torto. Anche se Medical Property Trust ha recentemente tagliato il dividendo della metà potrebbe non essere ancora sostenibile, perché avendo problemi di liquidità, la diligenza potrebbe e molto probabilmente dovrebbe, a mio parere, intraprendere azioni per migliorare la posizione finanziaria dell'azienda. Nel 2022 l'uscita di cassa di Medical Property Trust legata ai pagamenti dei suoi dividendi è stata di quasi 700 milioni di dollari e dopo il taglio del dividendo avvenuto di recente la sua uscita annuale è di circa 360 milioni di dollari. Sebbene questo rappresenti un minore sborso di cassa per Medical Property Trust, il suo flusso di cassa organico nei sei mesi precedenti è stato piuttosto debole, considerando che il suo flusso di cassa operativo è stato di soli 212 milioni di dollari e le spese di capitale ammontavano circa 180 milioni di dollari. Pertanto il free cash flow dell'azienda è stato di soli 32 milioni di dollari nel primo trimestre del 2023. Chiaramente, come si può vedere, è non sufficiente a coprire i tuoi pagamenti precedenti per i dividendi, appunto dicevamo 350 milioni di dollari nel primo semestre del 2023. E anche le uscite previste nei prossimi trimestri, circa 75 milioni di dollari per ogni trimestre. Andando a osservare il rendicondo finanziario dell'azienda, Medical Property Trust ha finanziato il suo dividendo nei recenti trimestri attraverso una vendita di asset e l'indepitamento, una situazione insostenibile nel lungo termine, ma alla dicembre sarà ancora più complessa la situazione. Infatti, il saldo di cassa di Medical Property Trust è di circa 329 milioni di dollari alla fine di giugno, mentre il pagamento del dividendo trimestrale dimontava circa 75 milioni di dollari, come abbiamo detto prima. Pertanto il prossimo dividendo trimestrale previsto, quello per ottobre, non è un problema, ma l'azienda ha una significativa uscita di cassa prevista per dicembre, legata a un bond in sterline di circa 400 milioni di sterline che scade il 5 dicembre 2023, il che, al tasso di cambio attuale, comporta un'uscita di cassa per Medical Property Trust di quasi 500 milioni di dollari. Insomma, non sono bruschette. Sebbene l'azienda non abbia abbastanza cassa per saldare questo debito, questo, fortunatamente, al momento non significa che fallirà il prossimo dicembre. Questo perché, secondo i dati che sono forniti da Bloomberg, Medical Property Trust ha un revolving credit facility approvato di 1,8 miliardi di dollari, pensate un po' con proprio J.P. Morgan, di cui Medical Property Trust ha già utilizzato più di 1,2 miliardi di dollari di questo credit revolving. Pertanto, Medical Property Trust dovrà prendere in prestito un importo aggiuntivo durante questo quarto trimestre che sta per arrivare per saldare il bond in sterline in scadenza e mantenere una certa liquidità. Molto probabilmente prenderà in prestito tutto l'importo rimanente di circa 589 milioni di dollari che è al momento disponibile. Questa potrebbe essere l'ipotesi più probabile per il difinanziamento di questo bond, poiché i bond attuali di Medical Property Trust stanno scambiando con uno spread di credito molto elevati che portano a rendimenti attuali compresi fra il 12% e il 14% a seconda della data di scadenza. E anche per i bond con scadenze più corte, 2026 e 2027, i rendimenti attuali sono intorno a questi livelli che rende praticamente impossibile il rifinanziamento dei mercati del capitale a causa dei costi proibitivi e alla scarsa propensione degli investitori al credito per nuovi bond su questa azienda. Andando a tenere conto che la generazione di flusso di cassa del free cash flow organico di Medical Property Trust dopo i pagamenti di dividendi è stata negativa nei trimestri precedenti potrebbe essere che la posizione di cassa dell'azienda alla fine dell'anno sia di circa 300 milioni di dollari assumendo che andrà ad utilizzare il suo credit revolving facility in pieno per rifinanziare la prossima scadenza di bond. Ma purtroppo non finisce qui. Inoltre infatti nel 2024 Medical Property Trust aveva un prestito significativo in scadenza di dollari australiani ma ha raggiunto un accordo qualche mese fa per vendere alcuni asset consentendogli di andare a rimborsare completamente quei prestiti collerati in Australian Dollar. Pertanto durante il 2024 l'azienda ha solo un prestito in sterline da pagare pari a circa 130 milioni di dollari. Di questo pagamento del debito australiano ne avevo accennato in uno dei miei short sul canale. Per cui assumendo una posizione di cassa di circa 300 milioni di dollari entro la fine del 2023 questo significa che Medical Property Trust esaurirà la cassa nel corso del 2024 se la diligenza non andrà ad adottare misure per migliorare il suo profilo di liquidità e inoltre sebbene nel 2024 le scadenze del debito siano in qualche modo tamponabili o tamponate nel 2025 ha più di 1.4 miliardi di dollari in scadenza di prestiti e bond rappresentando un grossissimo problema da affrontare. Inoltre nel 2026 ha prestiti e bond in scadenza per un importo totale di circa 2.8 miliardi di dollari il che è ancora più preoccupante. Ma questo cosa significa per gli investitori? Ciò significa che Medical Property Trust può gestire i suoi problemi di liquidità a breve termine attraverso la vendita di asset oltre ad accogliere nuovi prestiti anche se a costi elevati ma nei prossimi tre anni dovrà rifinanziare circa 4.2 miliardi di dollari che è un importo considerevole pari al 41% del suo debito totale. Ma mettendo le mani avanti potrebbe comunque non essere ancora spacciata o sull'orlo del fallimento. Perché? Beh, l'abbiamo detto prima, se Medical Property Trust utilizzasse in pieno il suo credit revolving facility JP Morgan avrebbe un'esposizione in caso di default dell'azienda di circa 1.8 miliardi di dollari il che è un importo rilevante anche per una grande banca come JP Morgan. Per dare un po' il contesto, le dotazioni per perdite sui prestiti di JP Morgan ammontavano a quasi 6.4 miliardi di dollari nel 2022. Quindi avere un'esposizione singola che entra in default per 1.8 miliardi di dollari è un terzo, è un colpo significativo per una banca anche di queste dimensioni. Pertanto se Medical Property Trust si trova in una posizione di liquidità critica molto probabilmente JP Morgan potrebbe avere un incentivo a continuare a finanziare MPW invece di permettere che fallisca. Tuttavia a questo punto Medical Property Trust molto probabilmente sarà in grado di ottenere solo e esclusivamente prestiti garantiti dalla banca, da JP Morgan, per i quali utilizzerà le sue proprietà come garanzia. Ciò non dovrebbe essere un problema dato che MPW ha circa 440 proprietà valutate in oltre 19 miliardi di dollari più che sufficienti per usarle come garanzia per i nuovi prestiti. Tenendo conto delle previste uscite di cassa nei prossimi trimestri legate ai dividendi e alle scadenze di prestiti oltre al fatto che le sue operazioni generano flussi di cassa sufficienti a finanziare queste uscite la raccolta di nuovi prestiti o la vendita di asset saranno praticamente fondamentali per l'azienda per dimostrare che non affronterà una stretta di liquidità nei prossimi 6 mesi o 9 mesi al massimo. Fino a quando l'azienda non lo farà penso che un investitore che volesse cercare di investire in Medical Property Trust dovrebbe comunque considerarla come una posizione ad altissimo rischio o tentare in questo caso un qualcosa che sia più un colpo di fortuna che un investimento colpo di fortuna troppo azzardato a mio parere. Questo perché ulteriori ricali sono molto possibili e probabili quando il mercato inizia a preoccuparsi seriamente per i problemi di liquidità di una qualsiasi azienda. Bene fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di Medical Property Trust se l'hai in watchlist o se l'hai già in portafoglio e cosa stai facendo se l'hai in portafoglio. Ti ricordo che se vuoi avere un'anteprima delle aziende che aggiungo alla mia watchlist puoi sempre iscriverti al mio partner al costo di una colazione al mese dove possiamo anche approfondire in privato le aziende menzionate in tutti i miei video. Ricordandoci che questi non sono né consigli a investire o a non investire in questo o in quell'altra azienda ma solo spunti per scopo didattico e di approfondimento in ogni caso se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza fammi capire il tuo gradimento con un bel pollicione in su. Se invece mi hai appena conosciuto potrebbe essere una buona anzi un'ottima idea cominciare a far parte di questa community con una maggiore presenza la tua e iscrivendoti al canale e cliccando sulla campanella delle notifiche. Al prossimo video!